Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento ormai tradizionale dell'Unitalsi con il pellegrinaggio a Lourdes. Sì, siamo di nuovo qua, come tutti gli anni, a darvi le indicazioni necessarie per poter venire, ma soprattutto per aiutarvi a capire quanto sia importante questo viaggio. Chiamiamolo viaggio, ma è un pellegrinaggio in effetti. E partiamo con tutti i fagotti dei nostri dolori, delle nostre preoccupazioni e andiamo a depositarli là dove comunque sappiamo che veniamo compresi. Appuntamento col pellegrinaggio annuale. Logisticamente come si svolgerà quest'anno? Quest'anno si parte col pullman anche, perché l'aereo, abbiamo un aereo, è già pieno. Ora abbiamo messo in campo dei pullman. Abbiamo dei pullman innovativi per quello che riguarda il trasporto dei nostri amici ammalati, tenendo presente durante tutto il percorso. Ci sono dei sacerdoti, ci sono dei medici, ci sono degli infermieri e ci sono dei volontari, come me e del resto, che seguono questi ammalati. Non solo. Abbiamo anche il pullman dei giovani, che quest'anno abbiamo abbassato anche le quote. Con 300 euro un giovane può venire con noi a Lourdes, viaggio, tutto compreso, cena, pernottamento. Io voglio proprio incentivare i giovani a venire, a provare questa cosa qua. È una spesa irrisoria, però è una felicità, è un supporto, è una mano che date alle persone che hanno qualche piccolo problemino. Ma cosa lascia nelle persone un pellegrinaggio a Lourdes? Eh beh, lascia la certezza di poter vivere serenamente, perché tutto quello che noi incontriamo in quella sede è tanto più grande di noi, è tanto più pesante la vita di alcune persone rispetto alla nostra, che quando si torna si ha un pieno, come dire, di ottimismo. Ricordiamo le date e a chi rivolgersi per prenotare. Noi partiamo, qui Pullman si parte dalla Spezia, giovedì 5 settembre alle 19 e si arriva a Lourdes al mattino alle 8, all'incirca. Ci parte dal palazzetto dello sport. Chiunque vuole partecipare al pellegrinaggio ci deve chiamare a telefono. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Grazie.